tu sarai stabilita fermamente nella giustizia sarai lontana dall'oppressione perché non dovrai più temere e dal terrore perché non si avvicinerà più a te ecco potranno anche radunarsi contro di te ma non sarà da parte mia chiunque si radunerà contro di te cadrà davanti a te ecco io ho creato il fabbro che soffia sulle braci nel fuoco e ne trae uno strumento per il suo lavoro e oppure creato il devastatore per distruggere nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai questa è l'eredità dei servi dell'eterno e la loro giustizia viene da me dice l'eterno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti